Ciao a tutti! Oggi testeremo Enforcer, una demo che ho scaricato da Aminet che supporta anche il Warp 3D. Io ho messo a questa risoluzione. Grazie a tutti! C'è qualche errore grafico però diciamo che grazie a Warp 3D anche se ho un 6804025 gira molto bene. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!